Il mercato azionario è in bolla? E se non lo è, sta per scoppiare? Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale, mi chiamo Gianluca Gagnari Bandini, sono un trader e un investitore. Poiché ho visto che tutti quanti hanno trattato il tema, non solo qui sul tubo, ma d'altronde fra poco ne sento parlare anche al bar, sotto casa, ovviamente, da lì fino ai grandi guru, Beh, allora, a questo punto, siccome qui si parla di borsa, di finanza, di mercato azionario, molte volte parliamo di indici ETF e singole azioni, beh, ho deciso di dire la mia. Spostiamoci qui sul Forward PE e quindi andiamo un attimo a vedere quali sono le valutazioni, o meglio, qual è il rapporto fra il prezzo e gli utili delle aziende in questo momento storico. Quindi stiamo vedendo anche la proiezione, no, da qui, diciamo, alla fine dell'anno, inizio 2021, perché è il Forward, quindi stiamo anche, diciamo, proiettando in avanti. Tuttavia, al di là di queste considerazioni, sono dei valori molto importanti. Qui vediamo sia l'S&P 500 che l'S&P 400 MIG CAP e l'S&P 600 SMALL CAP. Dunque, possiamo osservare come questi valori siano superiori a quelli relativi alla crisi del 2008, quindi ci possiamo riferire come anno a quello precedente, ossia il 2007. Quindi, cerchiamo di andare a contestualizzare, prima di andare a dire magari anche cosa fare e quali sono le considerazioni, eccetera, eccetera. Perché non è che le cose avvengono per caso, cioè non è che le persone hanno cominciato i fondi, perché non siamo né io né voi che tiriamo su il mercato, che facciamo crescere le quotazioni di Apple fino a 400, a 500, a 10.000, tant'è vero che deve fare lo split, è lo stesso che ha dovuto fare anche Tesla. Sono aziende che alcune sono cresciute addirittura di un trilione di dollari, appunto la famosa Apple, oppure prendiamo in considerazione Amazon, o quantomeno sono cresciute di centinaia e centinaia di miliardi. Quindi, si sta parlando come recentemente gli indici del mercato azionario, comunque direi in particolar modo il Nasdaq e l'S&P 500, abbiano un rapporto prezzo-utili assurdo, che abbia raggiunto dei livelli simili o più importanti, puoi andare a vedere nello specifico, comunque del boom tecnologico nel 1999, degli anni 2000, eccetera, eccetera. Questo è quello che si sta cominciando a percepire e a leggere. C'è da dire anche che le stesse considerazioni valgono se ci poniamo all'inizio, comunque nel periodo di una crisi, quando questa sul mercato finanziario è prossima. Quindi, se ci andiamo a proiettare sul crash del 1987 o sulla grande crisi del 2008, le valutazioni ad oggi cominciano probabilmente ad essere al di sopra. Ma dobbiamo, ripeto, cercare di avere una visione a 360 gradi, olistica del mercato finanziario, cioè del mondo finanziario nel suo complesso. Cosa sta accadendo? Dobbiamo rivolgerci, secondo me, a quelli che poi sono gli investimenti alternativi nella storia. Perché, ovviamente, da qualche parte l'investitore, il fondo comune di investimento, l'edge fund, deve andarli a mettere i suoi soldi. È pacifico ormai, perché tutti quanti siamo sempre più istruiti, magari i nostri genitori o nonni l'hanno visto sulla propria pelle molto più di noi, perché ad oggi non abbiamo la percezione dell'inflazione. Tuttavia, il denaro è trash, come abbiamo sentito negli ultimi mesi, negli ultimi tempi, da Pai Taglio, su questo canale o altri, perché proprio si va a svalutare nel tempo, addirittura anche nei periodi di bassa inflazione. Abbiamo visto come, ultimamente, la Fed abbia stampato e abbia immesso liquidità in una maniera incredibile nel mercato, e addirittura le ultime dichiarazioni della Banca Centrale hanno fatto intendere come l'attenzione morbosa nei confronti dell'inflazione che sarà abbassata e altresì ci si andrà a concentrare sulla piena occupazione. Quindi, se sommiamo tutte quante queste cose, il nostro dollaro, e quindi alla fine ciò si va a ripercuotere su tutto quanto il mondo, e lo possiamo estendere dal concetto di denaro, di cash, varrà sempre di meno. Per questo bisogna andarlo a investire. Solo che oggi c'è un problema. Io mi ricordo, ovviamente, che i miei genitori, o ancora di più anche i miei nonni, mi dicevano che investivano in buoni del tesoro, o a volte mettevano soltanto i soldi nel conto corrente, e a fine anno si trovavano magari un più 15%. Se andiamo a fare questo discorso, anche per quanto riguarda i treasury americani, riscontriamo che nel 1987, parlando di crisi, davano un rendimento del 10%. Ma poi, successivamente, si sono abbassati. Nel 2000 stavamo attorno al 6,5%, ancora più avanti al 5%, e adesso praticamente siamo arrivati a un non nulla. Quindi, vi era la possibilità, quando si percepiva un pericolo, di potersi mettere al riparo, andando comunque a prendere dei ritorni, rispetto al proprio di investimento, molto interessanti, della serie. Ma chi me lo fa fare a me di rischiare sul mercato azionario, se poi il governo degli Stati Uniti d'America, veramente una potenza incredibile, mi va a garantire un'obbligazione al 10%, effettivamente lascio perdere. Ma ora mi va a garantire il niente. Il niente non perché quei soldi svaniranno nel nulla, bensì perché i tassi sono talmente bassi, che pur rispettando al 100% quella che è la loro obbligazione, quello che è il loro obbligo nei nostri confronti, beh, alla fine ci pagheranno come interesse il niente. E questo sicuramente non piace a nessuno di noi. Allora, dobbiamo cercare di estenderci verso altri investimenti. Dobbiamo sempre, no? Lo abbiamo letto sui libri, ne ho parlato tantissimo anche all'inizio del canale, all'inizio intendo quando ho cominciato a fare video su YouTube, quindi alla fine del 2019, dello scorso anno, anche all'inizio anno, si parlava, si faceva divulgazione, e si raccontavano i sacri crismi degli investimenti. Quindi ho portato anche dei permanent portfolio, famosissimo l'All Weather, sappiamo che dobbiamo ad esempio andare a mettere i nostri soldini anche in obbligazioni, possono essere a lungo termine, a breve termine, e anche nelle materie prime, nell'oro, nei rifugi e così via. Però adesso le circostanze sono eccezionali, sono molto diverse rispetto a tutti quanti gli scenari che abbiamo visto. E quindi l'affermazione questa volta è diverso, la vado a fare per lo scenario, ma non poi alla fine per quello che dovremmo fare, o meglio, dobbiamo avere degli accorgimenti che poi vi dico, ma sempre i sacri principi ci aiuteranno ad essere dei bravi investitori. Cosa c'è diverso in questo scenario? Beh, innanzitutto abbiamo un mercato così fortissimo, abbiamo un'economia che è in crisi, abbiamo una variabile per la quale è assurdo che oggi il mercato si stia andando un po' a dimenticare, o che ovviamente è il maledetto virus, perché non si capisce bene quale sarà il suo destino, quando sarà la sua durata, quando ce lo toglieremo di torno, se dovremo conviverci e così via. E questa è una variabile assurda, è incredibile, perché ha penalizzato tantissime aziende, tantissimi lati e categorie dell'economia. Abbiamo detto che l'alternativa obbligazionaria non esiste, sappiamo quindi che interventi, quali il taglio dei tassi, ormai non si può più applicare perché siamo arrivati a zero. Non penso che gli Stati Uniti d'America, ad esempio, vogliono andare a meno 1, meno 2, meno 3, meno 1000%, non ha alcun senso. Invece quello che stanno cercando è pompare denaro e magari andarci a ripagare, andarsi diciamo a ripagare quelli che sono i debiti, anche tramite l'inflazione. Ma questa ovviamente non dovrà essere incontrollata. Questo comunque è uno scenario possibile, probabile, futuro, e lo andremo a verificare, lo andremo a controllare insieme, proprio perché poi nell'ultimo anno abbiamo imparato quanto fare previsioni, a volte sia un po' un esercizio che lascia il tempo che trova, bensì dobbiamo avere una strategia super resiliente e portarla avanti, come il piano di accumulo, come comprare sui crolli, il mercato azionario. Anche in questo scenario pandemico sta funzionando. Poi possiamo rivolgerci ai mercati immobiliari, ma in alcune zone, ovviamente in Italia sta in grande difficoltà, in altri scenari si mantiene ancora brillante il residenziale, ma in assoluto il commerciale, e soprattutto quello al dettaglio, è stato veramente massacrato in termini proprio economici e sinceramente non sappiamo bene quale sarà il futuro. Lo slittamento, il traslarsi nello smart working, penso che cambierà anche in futuro parte di quel mondo. Poi l'interesse degli investitori in attività come l'oro e come l'argento, è stato incredibile, abbiamo visto l'oro crescere a dismisura. Pertanto, non è così semplice andare a investire. Ci sono anche le criptovalute e alcune da marzo sono cresciute alla grandissima. Ma la criptovaluta non si può intendere come un bene sicuro, un bene difensivo, dove andare a parcheggiare, con il sorriso, tutti i propri risparmi. È qualcosa di pericoloso ma anche allo stesso tempo ha un alto potenziale di rendimento. Infatti, potremmo ritrovarci con un capitale di 2, 3, 4, 5 volte magari nei prossimi anni, ma se andasse male potremmo ritrovarci con il famoso cerino in mano. Quindi possiamo destinarci, a meno che noi siamo veramente dei fanatici matti scatenati in una piccolissima parte del nostro portafoglio. Invece parlando di asset tradizionali non è semplice, non è così facile adesso andare quindi a mettere soldi anche nei beni di rifugio come l'oro dopo la crescita spaventosa che hanno avuto. Non è facile andare a investire in un obbligazionario che non dà nulla e laddove vedesse i tassi crescere andrebbe addirittura a svalutarsi la nostra quotazione magari dell'ETF che andiamo a comprare del fondo che tratta questa tipologia di investimenti e così via. E abbiamo detto anche che il mercato azionario diamine ci fa domandare a tutti quanti se è in bolla. Quindi anche se qualcuno potrebbe concludere che non lo sia se tutti ce lo chiediamo c'è qualcosa che quantomeno ci assomiglia e anche questo può essere molto pericoloso dopo una cavalcata furiosa che non finisce più infatti già un po' di tempo fa qualche settimana fa mi sarei aspettato un ritracciamento e invece però non c'è stato anche se oggi diciamo sembra una giornata difficile sui mercati quindi ritornando sull'azionario sugli indici sulla eventuale bolla l'S&P 500 dobbiamo assolutamente asserire che sia caro non è di certo sconto come le big tech non sono assolutamente un affare in questo momento attenzione alle trappole cioè stiamo arrivando a delle valutazioni a delle capitalizzazioni no sense il rapporto a quelli che sono i loro utili non dico che se magari le comprate oggi fra 10 anni non avrete avuto un vostro diciamo ritorno ma questo potrebbe essere modesto se le andiamo a prendere in queste fasi non dico neanche di non investire ad esempio sapete che io continuo in modo perenne con dei piani di accumulo su dei sottostanti su degli etf che a me piacciono quindi vado continuamente a mediare quella che è la mia posizione quello che è il mio prezzo medio e poi per i mille motivi che abbiamo detto sempre aspetto magari lo sconto e la tragedia sul mercato per andare a comprare ma come mai queste big tech sono cresciute tantissimo beh sono state percepite veramente in una maniera anomala come come difensive come value perché siccome tutte le altre parti dell'economia quindi i studenti business ad esempio tradizionali sono magari pensiamo all'utilities pensiamo alle consumer staple pensiamo ad azioni aristocrats eccetera avrebbero comunque resistito forse alcuni sarebbero anche cresciute durante un crash tradizionale qui invece siccome la difficoltà economica è stata scaturita da un lockdown e quindi diciamo sono fiorite esplose o comunque sono mantenute stabili le attività online è successo per la prima volta che proprio quelle aziende tech che potevano essere percepite come super growth giustamente che durante le crisi sono quelle che pagano dazio invece questa volta si è andato tutto quanto a rigirare quindi la storia è stata diversa e la statistica non ha funzionato e quindi quelle famose azioni super crescita che vengono pulverizzate durante i crolli sono state tra le migliori gli investitori ben presto hanno capito le loro potenzialità parliamo ad esempio non so della zoom di torno quindi non solo di quelle che erano big e invece quelle che lo stanno diventando quindi magari anche delle capitalizzazioni meno importanti però in quel settore sono esplose nell'information technology e quindi le hanno percepite come dei migliori business e forse unici in cui andare a mettere i propri soldi proprio per sfruttare questo momento storico e cavalcare i loro earnings quindi diciamo che negli ultimi mesi sicuramente il fenomeno è stato generato dal fatto che non ci sono delle valide alternative per quanto riguarda gli investimenti e poi ragazzi non fate l'errore di considerarvi fenomeni se da marzo ad oggi avete ottenuto dei grandi risultati cioè quasi qualunque cosa che avete comprato che sia di modo che sia tecnologica eccetera chiunque veramente è anche ben dato ha fatto più o meno i soldi quindi non dobbiamo dare per scontato che tutto quanto questo giochino crescerà secondo me siamo prossimi alla fine anche se vedremo che continuerà a massima attenzione cioè non può procedere a questo ritmo ma è qualcosa di logico che facciamo dopo un più 100% negli ultimi sei mesi facciamo fare al nasdaq un altro 100% nei prossimi sei mesi con l'attuale scenario non ha senso può accadere non penso è impossibile che accada nulla è impossibile ragazzi ma in quel momento se mai accadrà io mi aspetto poi veramente a quel punto il meno 50% sul mercato quindi non mi sembra un essere molto furbi in questo momento per dire andare a comprare una tesla lo dicevo anche settimane fa e sicuramente mi sono sbagliato a livello di valutazioni e sono contento se avete fatto i soldi però più va avanti questo giochino e più le probabilità che esploda sono elevate quindi io non mi andrai a riferire come un mercato azionario in bolla nel suo complesso quindi assolutissimamente no guardate questo rapporto linea blu sono le azioni growth la linea quella insomma aranciona rossa sono le aziende value vedete come il pie di quest'ultime sia assai più basso come effettivamente il mercato si sia dimenticato in una maniera direi morbosa delle azioni value delle azioni che danno dei grossi dividendi delle azioni che sono stable di società che ti danno un 6-7% sempre in crescita che hanno mantenuto comunque dei buoni bilanci anche se non sono super growth ce ne sono nel panorama internazionale e invece queste non sono state minimamente calcolate beh il mercato ci insegna a livello storico che prima o poi delle rotazioni ci sono quindi a un certo punto i soldi diciamo si porta il fieno in cascina si sta un attimo a vedere e poi si fa una rotazione quindi che significa si va a investire in altri asset e direi che a questo punto l'unico asset buono a sconto che è rimasto dopo la crescita assurda di tutto quanto quindi anche abbiamo visto delle obbligazioni proprio perché hanno un movimento inverso all'alto di quotazione rispetto ai loro tassi di interesse che quindi sono scese tantissime l'unico asset che secondo me ha ancora senso ad oggi sono le azioni value quindi sono quelle azioni di valore quelle società che hanno una quotazione ancora conveniente o giusta rispetto a quello che dovrebbe essere il suo fair value e prima o poi qualcuno se ne accadrà ci sono veramente tante aziende penalizzate non se le fila nessuno hanno anche dei payout ratio bassi e io direi che forse è anche il caso di cominciare ad avere attenzione verso questo discorso quantomeno c'è tanta avidità c'è troppa avidità ragazzi non c'è un filo logico in quello che abbiamo visto vero cioè se noi prendiamo il classico manuale di come bisogna valutare un'azienda di quelle che devono essere le sue quotazioni non ha senso vedere quello che è successo nelle ultime settimane soprattutto a Tesla non ha assolutamente senso è chiaro che un trend una moda una pill una avidità possono alimentare un sottostante per molto tempo ma prima o poi questo esploderà e non significa che non sia un'ottima azienda non significa che non crescerà non significa che non la vedremo a questi valori o anche a valori superiori ma significa che vi sono tante caratteristiche che possono far rimanere con il cerino in mano e quindi poi magari dovrete attendere chissà quanto per ritornare in pareggio quindi questo è da prendere in considerazione e si possono sempre fare degli affari nel mercato azionario in ogni mercato anche in quello più brutto vi sono delle azioni che crescono quindi ad oggi il nostro compito rispetto a quando c'è un mercato molto forte fortissimo un grande rimbalzo e praticamente come diciamo a Roma ando coio coio praticamente alla fine vado bene è il momento di applicare un processo di scouting ferrio molto evoluto cioè andare veramente a contestualizzare e magari a cercare delle aziende a sconto dei gioiellini di cui il mercato prima o poi inesorabilmente dovrà accorgersi quasi per forza maggiore questo significa che non mi vedrete investire in aziende growth nei prossimi mesi quando farò magari il mio classico report in cui vado a dire cosa ho investito no non significa questo ragazzi perché io ho detto che non posso andarmi a prendere ad oggi una big tech non posso andarmi a prendere le big five non posso andarmi a prendere le fang in questo momento e metterci i miei soldi ad oggi ho detto che non posso andare a mettere i miei soldi in tesla o in aziende simili o non avrei fatto ora ho visto che sta già più o meno crollando in questi ultimi due giorni poi vediamo se è solo un pullback che si riprenderà ma non riesco a metterli in questi giorni proprio su zoom non ce la faccio ragazzi per i motivi che vi ho detto potrei comunque nel mio processo di scouting non solo andarmi a trovare delle aziende di valore delle aziende che mi danno degli ottimi dividendi avete visto quante ne ho prese perché non sono un investitore che va soltanto a rivolgersi alla super crescita ma anche a quelle aziende che danno dei dividendi interessanti sempre per un processo di diversificazione in un processo di screening si potrà trovare anche magari ad oggi o comunque nelle prossime settimane qualche società che non è sulla bocca di tutti ad alto potenziale ad alta crescita e quindi me ne sentirete parlare se la valuterò tale o nei prossimi settimane nessuno lo sa potrebbe esserci un forte ritracciamento del mercato che potrebbe penalizzare e rendere vantaggiose azioni aziende che ad oggi non lo sono e come ho detto mi dedicherò anche e studierò ovviamente le aziende alcune ci sono nel portafoglio che danno dividendi di cui tutti quanti si sono dimenticati che sono rimaste al palo con delle valutazioni basse e io dico quelli che si accaneranno ancora con tanta avidità in questo momento prossimamente se continueranno saranno quelli che a un certo punto potrebbero disperarsi a meno che abbiano un piano molto intelligente ad esempio mi voglio costruire molto lentamente una posizione entro con una piccolissima parte del capitale faccio il mio classico piano di accumulo studio un attimo la situazione allora avranno la forza magari per andare a mediare a prezzi super convenienti ma chi oggi ci entra in modo prepotente senza avere un piano di azione soltanto perché va di moda e soltanto perché tutto quanto cresce il trend del tuo miglior amico sono coloro che secondo me si andranno a disperare soprattutto se non taglieranno subito le perdite e quando loro si dispereranno io comincerò a pensare a comprare quelle azioni su cui loro staranno piangendo questo può essere il programma devo dire ragazzi che mi da quasi fastidio perché se avessi devo dire adesso ragazzi che mi da quasi fastidio questa cosa che sto vedendo ora sui mercati perché se fosse accaduto domani o se fosse riuscito a pubblicare qualche ora prima il video sarei stato quasi profetico e invece diciamo mentre ho cominciato a registrare il video non stava accadendo quasi nulla ai mercati europei erano in verde ho finito adesso di montare il tutto e guardate quello che sta accadendo praticamente ho nominato zoom ho nominato tesla qui meno 7 meno 10 ma già ieri stava andando male a dire la verità vediamo anche il nasdaq come stia perdendo una marea di punti infatti sta a un meno 4 e mezzo per cento ma è normale è normale un po' per tutto quello che ci siamo detti al di là di dati o dichiarazioni che possano far provocare questa cosa qui il mercato comunque come dico sempre io deve respirare c'è anche una questione tecnica bisogna capire che poi qualcuno comincia di grande comincia a portare il piano in cascina e abbiamo visto come poi i movimenti si estremizzano e quindi partono anche tutti quanti quelli che sono gli ordini si innescano già messi in macchina tramite software o comunque tramite dei programmi che vanno a leggere il mercato e fanno un trading avanzato quindi in alcuni contesti i movimenti tendono ad accelerare e aumenta la volatilità è chiaro che rispetto a quello che abbiamo visto da marzo adesso non sta accadendo nulla però è proprio per questo che vi dico che porre la massima attenzione proprio perché chi ha preso diciamo per dire il nasdaq a metà marzo dovesse fare essa anche un meno meno un 20% sarebbe comunque felice e la sua acquisto rappresenterebbe sempre qualcosa di straordinario in un tempo così ridotto sul mercato azionario ma chi avesse comprato fortemente ieri per dire o chi si accanisse già oggi potrebbe ritrovarsi a piangere quanto meno a livello temporaneo quindi diciamo massima attenzione è chiaro non possiamo avere la sfera di cristallo quindi domani si può accalmare può proseguire questo movimento e fare un altro meno 2 meno 3 meno 4% perché lo abbiamo visto nel recente passato potrebbe anche esserci un fortissimo rimbalzo perché anche questo abbiamo visto nella storia del nazionario e sempre nel recente passato perché se è vero che a volte il trend accede e prosegue per alcuni giorni dall'altra parte è vero che anche i giorni peggiori o meglio i giorni migliori fanno seguito a quelli peggiori e quindi proprio perché non abbiamo la sfera di cristallo vi dico come vi ho già raccontato nel corso del video usare la testa ed applicare delle strategie me ne sono tantissime ma non andare mai all in quando il mercato ha fatto un più 100% in pochi mesi e vi è in questo momento una crisi economica e vi è sempre in questo momento all'orizzonte un qualcosa che è un grande punto interrogativo perché non si sa bene quando ne usciremo perché è un contesto nuovo un virus in un'epoca moderna globalizzata che ha costretto alcuni ambiti economici a chiudere i battenti ne ha fatti crescere altri ma adesso lì la speculazione sta apportando quelli che sono i suoi risultati ovvero tantissima crescita ma prima o poi aspettiamoci un grande ritracciamento che si è iniziato oggi non lo possiamo sapere ragazzi anzi fatemi sapere nei vostri commenti quello che ne pensate tanto diciamo tutti quanti saranno abbastanza validi direi no l'opinione di tutti conta più o meno la stessa maniera è ovvio c'è chi ha più o meno esperienza però io stesso ho detto ragazzi non abbiamo una sfera di cristallo e quindi chi sosterrà un forte rimbalzo una forte una continuazione di questo trend che potrebbe essersi invertito beh comunque sta dicendo qualcosa che ha senso l'importante sapete cos'è ragazzi non è saper prevedere il mercato ma adeguarsi allo stesso della serie ok se domani rimbalza oppure se nei prossimi 10 giorni fa meno per cento come mi comporterò io rispetto alla liquidità che ho e agli investimenti che ho messo in portafogli questa è la domanda a cui ognuno di noi deve rispondere e quindi deve poi di conseguenza andare a intervenire solo questo conta proprio perché ripeto per l'esima volta nessuno può prevedere il futuro addirittura è un esercizio un po' inutile ma quello che dobbiamo fare è invece rispondere al colpo dell'avversario cioè del mercato quindi sapere come schivare i colpi e andare a colpire nei momenti più opportuni ragazzi io vi ringrazio per l'attenzione se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto cliccate sulla campanellina per non perdervi mai nessun aggiornamento lasciate un bel like e io vi auguro degli ottimi investimenti a prestissimo ciao